Città gremita per la dodicesima edizione delle invasioni botaniche a Cremona, che ha preso il via questa mattina. La manifestazione è organizzata dalle botteghe del centro, Confcommercio Cremona e altre realtà, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Cremona. I cittadini sono accorsi numerosi anche per ammirare la novità di quest'anno, i balconi fioriti in tutto il centro della città. Il progetto Cremona in Fiore ha avuto come finalità la valorizzazione dei balconi e delle vetrine del centro, e per questo ben 300 cassette fiorite sono state donate a tutte le attività commerciali della zona. Dalle 9 alle 19 sono rimasti aperti gli stand dei circa 90 espositori, inoltre sono stati organizzati diversi eventi, come l'incontro di oggi pomeriggio alle 17.30 a Spazio Comune con il paesaggista Giovanni Ricca e l'aperitivo in vinile con DJ Set in Piazza della Pace, che durerà fino alle 23 di questa sera.